Sono pronti a decollare i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno l'edificio scolastico della Scuola Media Salvatore Quassimodo di Licata. È verosimile che presto dunque si apriranno i cantieri nell'edificio di via Cappellini e che l'intervento di manutenzione dell'edificio scolastico avvenga giorni. Il 29 settembre scorso presso i locali del Dipartimento Lavori Pubblici Urbanistica di via Gerretta si è svolta la gara a procedura aperta per l'affidamento approvisorio dei lavori di manutenzione straordinaria. Sono 163 i plichi delle offerte partecipanti. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l'impresa Figeco SRL con sede a Ganci per l'importo posto a base di gara di 394.107 euro che al netto del ribasso si riduce a 346.292 euro a cui si aggiungono 164 euro per oneri diretti e 9.016 euro per oneri speciali per la sicurezza. Seconda classificata è risultata l'impresa di Gaetano Gerratana con sede a Modica. L'assessorato regionale dell'istruzione della formazione professionale ha finanziato l'intervento per la manutenzione straordinaria di edifici scolastici della scuola media Salvatore Quasimodo per l'importo di 500.000 euro. Con determina dirigenziale del 14 luglio è stata impegnata e accertata la suddetta somma nel bilancio comunale ed è stato approvato il bando e il disciplinare di gara relativo all'intervento stabilendo di indire per l'appalto procedura aperta. La recente riforma sui criteri di aggiudicazione delle gare di appalto ha allungato i tempi per l'espletamento della gara che inizialmente era in programma il 24 agosto poi rinviata appunto in seguito alla legge regionale che riforma i criteri di aggiudicazione delle gare di appalto. Ma l'edificio della scuola media Quasimodo non sarà il solo ad essere interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Lavori in vista anche per la scuola dell'infanzia Olimpia di via Castello. L'edificio infatti risulta inserito nell'elenco degli interventi di edilizia scolastica dichiarati dalla regione ammissibili e immediatamente cantierabili nel quale il comune di Licata risulta inserito. L'intervento sarà infatti finanziato dalla regione siciliana Assessorato Istruzione e Formazione Professionale con decreto di finanziamento a seguito di stipula di mutuo trentennale a carico dello Stato.